Forse siamo giunti all'ultima puntata di Cento Latrine. Allora, Dalia, Soleil? Sembrate due evidenziatori. Beh, l'amore evidenziato. Alfa, io vorrei dire una cosa che ammiri questa donna perché è stata chiara e ripeta come l'acqua. Ti vuole un sacco bene, nonostante tutto. Anche io. Beh, mi viene da dire che Alex è di troppo. Alex, a questo punto devi abbandonare la casa. Alfa, mi dispiace perché c'erano ancora molte cose da chiarire, soprattutto con il sole. Dai, vai zio, non faremmelo dramma. Ok, allora il game finisce qui. Addio. Stop! Ciutite la porta con tripla mandata, grazie. Sarà davvero finita qui? E beh, speriamo. Buonanotte! Buonanotte!